Vole gestarci. Ciao, siamo qui con Lauro. Ciao Cara. Ciao, piacere, come stai? Tutto bene. Non possiamo dire molto della sua canzone, se no che è bellissima, noi l'abbiamo sentita ieri durante le prove, complimenti. Stasera sono contento che appunto inizia questo gala e che finalmente possiamo parlare della canzone a carte scoperte. Non ce la faccio più io, non ce la faccio più a mantenere questo segreto. Senti, ieri sei salito sul parco dall'Arison per la prima volta, un pochino di paura. Allora, noi avevamo comunque fatto le prove, questa era la prova generale. Grazie. 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 Grazie.